Ciao, bentornati su MyFootballGersy. Oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione player, trovate il link qua sopra, la prima maglia della Francia in versione fan questa volta, la maglia dei prossimi mondiali in Qatar. Le maglie da casa e da trasferta della Coppa del Mondo 2022 della Francia celebrano France Nouveau, Nuova Francia, combinando l'eredità e il futuro del paese. La maglia combina base blu Navi con oro metallizzato per i loghi. Ufficialmente la colorazione è Midnight Navi Metallic Gold. È una straordinaria combinazione di colori per i campioni del mondo in carica. La caratteristica distintiva è il colletto, che viene fornito con un sottile bottone sul davanti. In termini di design, la maglia ha un look sobrio, a parte un motivo sottile sui polsini delle maniche e sul colletto. Il motivo include foglie di quercia e rami di olivo, per indicare forza, solidarietà e pace. Come ho già avuto modo di dire per la recensione della versione player, secondo me questa maglia è, nella sua semplicità, molto bella, di un blu molto scuro, molto, secondo me, fashion, diciamo così, nei quali gli inserti in color oro danno quel che in più. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle, per una maglia comunque fatta veramente molto bene e che arriva con dei tempi di spedizione molto buoni. Questa è arrivata in 17 giorni. Il prezzo lo vedete qui sopra? Bassissimo! E vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, ma soprattutto un link da, per ottenere un coupon da 3 dollari, che potete poi utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità, quindi continuate a guardare il video. Spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali altre maglie vorrete vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.